La crisi del settimo anno Abbiamo anche costituito l'associazione, l'ASD Torneo Fabrizio Piaggi È stata una giornata di sport fenomenale Ho visto i ragazzi carichi, belli come mi piace vederli E tutto quanto il ricordo di Fabrizio Un grande giocatore, un grande allenatore Una persona che ha dato la sua vita anche allo sport Ed è per me un onore ricordarlo così Sono Tommaso Marotta Ero qua con Tuya al negozio del Torneo Piaggi Un negozio di solidarietà Vendevamo queste magliette Ricavato andrà in beneficenza Ha avuto un discreto successo devo dire Perché c'erano diversi gadget Oltre alle magliette avevamo i braccialetti Le tazze, gli asciugamani È stato sempre bellissimo venire qua a dare una mano Quest'anno abbiamo deciso di devolvere in beneficenza Anche quest'anno parte del nostro ricavato con le magliette e i gadget E dobbiamo ancora decidere l'istituto benefico a cui andrà E lo decideremo nelle prossime cene, nelle riunioni del comitato Sono contentissimo e grazie a voi e seguite Ci abbiamo la pagina Facebook Torneo Fabrizio Piaggi Perciò cliccate e state sempre aggiornati È sempre una novità All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And I know you have to leave this So just dance, dance, dance